Candele a Candelara diventa maggiorenne, diciottesima edizione per la festa dedicata alle candele conosciuta in tutta Italia e ormai anche oltre confine, che torna dopo l'annullamento dell'edizione 2020 a causa delle restrizioni da pandemia. Si riparte con sette giorni fra 60 tipiche casette in legno divise fra mercatini natalizi, laboratori, animazioni, gastronomia e naturalmente la luce fioca e avvolgente delle candele ad illuminare il borgo. Si comincia già questo weekend sabato 27 e domenica 28 novembre per poi proseguire il 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre. Candele a Candelara ha voglia di ripartire perché l'ottimismo non deve mai mancare, soprattutto tra i soci e collaboratori della Proloco perché effettivamente senza di loro non si riuscirebbero a fare queste cose così grandi e così belle. Poi ecco quest'anno abbiamo avuto anche una spinta ulteriore da parte delle agenzie di viaggio Tour Operator perché effettivamente così c'è molta richiesta, nonostante che poi adesso ecco ci sia un momento critico perché più si va avanti più si vedono problematiche diverse. Comunque ecco noi siamo pronti e soprattutto pronti per questo mercatino che è unico in Italia ecco perché così gettonato da tante tante agenzie di viaggio. Poi abbiamo ecco uno spazio che riserviamo sempre ai bambini perché chiaramente quando ci avviciniamo al Natale il momento migliore che possiamo così offrire ai nostri bambini è quello spazio che abbiamo ricavato grazie anche a tante collaborazioni. Sono quattro le collaborazioni che abbiamo avuto per allestire questo spazio bimbi, spazio bimbi dove troviamo i laboratori dove costruiscono candele e altro materiale vario, poi abbiamo un villaggio di Babbo Natale dove possono scrivere la loro letterina e consegnarla direttamente a Babbo Natale nella sua casetta e anche tante animazioni e giochi all'interno del castello. Per una delle manifestazioni a più alto rischio assembramento sarà un'edizione trasformata e ridimensionata negli spazi in linea alle norme anti-covid. Green pass, obbligo di mascherina, obbligo di prenotazione dei posti in pullman per raggiungere il borgo, manavette nettamente potenziate. Certamente faremo tutto il possibile perché le cose vadano per il meglio, rispettando sempre tutto quello che ci verrà imposto per le normative covid che naturalmente ci saranno, green pass obbligatori e mascherine anche all'aperto obbligatorie. Grazie. 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 Grazie a tutti.